benvenuti oggi mi trovo a rivoli nel centro storico se state giocando una casa indipendente da ristrutturare e date un'occhiata al video la casa è circa 260 metri quadri totalmente da ristrutturare con giardino e box auto doppio un'occhiata al video e questa è la vista la posizione è davvero comoda in quanto ci troviamo vicinissimo a due parcheggi pubblici del comune di rivoli la casa come ti ho detto è da ristrutturare c'è il giardino il box auto doppio e la vista bella vista è giusto che tu venga a vederla contattami un'occhiata al video